Si sbloccano finalmente i lavori per il rifacimento dello Stadio dei Pini. L'impianto sportivo comunale, chiuso dal 30 giugno 2018, è mai riaperto, neppure per ospitare le partite della Viareggio Cup, costretta a marzo ad emigrare clamorosamente alla Spezia. In una nota il comune di Viareggio fa sapere che è partito l'iter con lo stanziamento di 1.680.000 euro. Prossimo step il bando per l'incarico progettuale e poi il via ai lavori. La Giunta del Ghingaro ha infatti deliberato l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche 2019-21. Un piano approvato il 18 gennaio scorso, adesso con nuova delibera, si legge in una nota, la Giunta ha aggiornato l'atto, visti sia i nuovi obiettivi sia il risultato del conto consultivo 2018, dal quale risulta un avanzo di amministrazione vincolato pari a 7 milioni di euro da destinare a opere pubbliche. Ma vista anche, possiamo aggiungere, la chiusura dell'inchiesta Lampo aperta dalla magistratura a gennaio a seguito di un esposto anonimo e archiviata dal GIP di Lucca in poche settimane, un'indagine, da quanto appreso, scattata per verificare il rispetto delle norme di sicurezza che aveva spinto la Commissione di Vigilanza a negare la riapertura dello stadio per la Coppa Carnevale costringendo il sindaco a hissare bandiera bianca. Ma oggi, chiuso all'inchiesta e approvati i bilanci, basta solo far partire i lavori. I primi 126 mila euro serviranno ad individuare un professionista esterno al Comune per la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Il rinnovato stadio sarà dunque conforme alla nuova normativa antisismica, come dichiara lo stesso sindaco Giorgio De Ghingaro, che spiega ci sarà spazio per la pista di atletica, probabilmente dovranno essere rifatte ex novo le gradinate e messe ulteriormente in sicurezza alle tribune. Una buona notizia per lo sport cittadino e soprattutto per il calcio. Il Viareggio 2014, nel frattempo escluso dalla Serie D, aveva infatti festeggiato il suo centenario fuori dalla sua casa naturale. Una triste umiliazione che presto, tempi tecnici permettendo, potrà finire.